Non per fare dell'ironia spiccia, ma già il fatto che una decisione a Gandino venga presa all'unanimità potrebbe essere di per sé una notizia. Si sta parlando dell'approvazione del piano di diritto allo studio. In che cosa consiste? Il nostro piano di diritto allo studio siamo riusciti ad approvarlo all'unanimità e questo vuol dire che dopo una serie di percorsi, questi 3-4 anni, cerchiamo di avviare un metodo per far approvare il piano di diritto allo studio. Domanda alla scuola, la scuola chiede, propone, l'amministrazione comunale con le sue commissioni, la commissione di istruzione e la commissione consigliare fanno un percorso di discussione, verifica, analisi, valutazione delle possibilità e da lì poi nasce e viene approvato in consiglio comunale. Questo percorso che vuol dire partecipazione nella condivisione su un progetto, su delle proposte, ci ha portato a avere il piano di diritto allo studio approvato all'unanimità. Come ho detto nella relazione, il piano di diritto allo studio di quest'anno è di fatto una continuità, nel senso che dopo 3-4 anni ormai abbiamo dato un percorso, una linearità, sono avviati tutti i servizi dalla mensa, i trasporti a tutte le attività ulteriori collegate alla didattica. Fondamentalmente quest'anno abbiamo inserito, abbiamo lanciato due percorsi significativamente nuovi. Uno, quello di riportare il tema dell'educazione al centro delle attività della comunità. Abbiamo lanciato il progetto della città educativa qualche anno fa, oggi stiamo ragionando con la scuola e con le agenzie del territorio per fare maniera di studiare, valutare e capire quali sono i bisogni formativi ed educativi dei nostri ragazzi. Si avvierà in questi giorni un gruppo di lavoro con una ventina di persone per valutare come il nostro territorio, sulla base della nuova legge Gelmini, dovrà adeguarsi all'offerta formativa. Tra le prime valutazioni, se mi permetto di segnalarle, sta il fatto che questa nuova normativa per la scuola, soprattutto per le elementari e per le medie, per la primaria e per la secondaria e per la primaria di secondo grado, chiederà ai territori di essere più attenti anche alla dimensione formativa. Il fatto di non avere più il trio di maestri all'interno della scuola elementare, il fatto di avere il maestro prevalente, porterà la scuola a doversi preoccupare soprattutto dei contenuti. Ecco che allora il rischio sarà che qualcuno potrebbe rimanere indietro. Come amministrazione comunale abbiamo pensato che nessuno deve rimanere indietro, soprattutto sull'istruzione. Ecco che allora diventerà fondamentale portare avanti dei progetti che includano nella formazione anche i ragazzi che per tutta una serie di motivi hanno delle problematiche dal punto di vista scolastico. Quindi questo è il primo passaggio. Il secondo passaggio è collegato un po' alla discussione del tema della scuola. Abbiamo avviato un percorso con la scuola materna, con la cooperativa Il Piccolo Mondo e come amministrazione per portare la biblioteca nella scuola materna. Altro elemento importante collegato al piano di diritto allo studio è quello che vogliamo avviare, avvicinare alla conoscenza, alla lettura, al mondo della biblioteca, i bambini. Come? Portando la biblioteca alla scuola materna. Quindi è uno dei progetti che verremo a discutere in questi giorni, anche dal punto di vista organizzativo, ma l'obiettivo è quello di riuscire a far avvicinare proprio nella tenera età dei 3 ai 6 anni i bambini al libro e alla cultura della lettura. È un elemento importante che potrà aiutare il nostro territorio a conoscere di più e a vivere di più la dimensione culturale. Grazie.